Musica Oltre 2000 persone hanno partecipato domenica allo speciale appuntamento Io gioco con l'arte dei de Il Gioctur E gratuitamente la mostra Frida Kahlo, le scuderie del Quirinale A spiegarci l'iniziativa è Marzia Mastro Giacomo, direttore del Gioco dell'Otto Il Gioco dell'Otto conferma anche questa volta l'impegno a garantire l'accessibilità alle grandi mostre della capitale del 2014 Quindi con Frida Kahlo domenica si sono svolte i primi due importanti appuntamenti Organizzati appunto a beneficio delle famiglie in generale ma di tutta la collettività Quindi dei laboratori per ragazzi con visita gratuita alla mostra E una serata aperta a tutti tra le 19 e le 30 con accesso alla mostra In generale dal 98 ad oggi sono stati spesi 1 miliardo e 700 milioni per oltre 700 interventi in tutto il territorio italiano Successo di numeri per gli organizzatori e soddisfazione dei partecipanti Vuoi risparmiare 10 euro? Si fa di tutto Come avete saputo di questa cosa? Internet Internet Sì, amici come lei che sono un po' più acculturati Ma lei Frida Kahlo la conosce? Sì, la conosce Abbastanza Abbiamo anche il libro, è un caso La mostra aveva sempre piacere vederla Poi approfittiamo perché appunto non si vaga il biglietto Affari interi gratis stasera è uno sponsor privato Secondo lei dovrebbe esserci più spesso nel settimo di questo genere? Sì, dovrebbero Anche se comunque ce ne sono abbastanza Io non è la prima alla quale partecipo Quindi Certo, più ce ne sono meglio è La possibilità di ingresso gratuito si ripeterà domenica 25 maggio Dalle 19.30 alle 21.30 Sempre grazie al gioco dell'otto